Passeggiando nel nostro quartiere basta alzare lo sguardo per vedere che c'è una città che vive sopra e una città che vive sotto. A dividere queste due anime di Napoli è il ponte del Rione Sanità, che fu costruito nel decennio francese per permettere di arrivare più velocemente alla reggia di Capodimonte. Nel 2011 il ponte fu dedicato a Maddalena Cerasolo, partigiana napoletana, che durante le quattro giornate di Napoli, insieme ai suoi compagni, evitò che i soldati tedeschi lo bombardassero e lo distruggessero. Da quel momento il ponte diventa simbolo di resistenza e liberazione. Viene a scoprire il Rione Sanità con noi. Ti aspettiamo!